Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e oggi vi porto tre completi ragazzi Secondo me molto 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 carini che vale la pena di fare E vi faccio vedere anche come passare questo giubbotto sui completi che state facendo ragazzi Ovviamente questo giubbotto ve lo dovete procurare o prima o dopo Con il glitch che ho portato ieri sul canale Vi lascerò anche il glitch con tutta la playlist Quindi basterà aprire la scheda in alto a destra e vi troverete anche quel video Quindi a questo punto ragazzi passiamo al glitch Dovete andare su cambia personaggio e dovete scegliere un personaggio donna ragazzi Dovete creare questo personaggio donna non è che lo dovete scegliere se non l'avete createlo Io qui ragazzi per diciamo per facilitarmi un po' e per non fare un video troppo lungo Avevo già creato il personaggio però voi se non l'avete lo dovete creare E dovrete andare a fare questi tre completi Sì lo so voi dite eh vabbè ma tu ci fai vedere così Noi che cazzo ne sappiamo che dobbiamo mettere No ragazzi adesso andremo a vedere pezzo per pezzo che cosa mettere ragazzi Quindi andiamo nella sessione di leggings E andiamo a mettere questi qui ragazzi Ok? Guardatelo bene a schermo io adesso sto editando la voce Quindi non riesco a vedere bene i numeri Però penso che voi riusciate a vederli abbastanza bene Poi andiamo in bustini ragazzi E dobbiamo mettere il bustino turchese Quello lì che avete appena visto E una volta che abbiamo messo il bustino turchese ragazzi Dobbiamo mettere il giubbotto ovviamente da biker Che avete appena visto Questo azzurro Quindi dopo di che passeremo ai guanti ragazzi Andremo a mettere un paio di guanti di cotone bianco Andiamo alle scarpe e mettiamo stivali con talco alto E mettiamo mi sembra i 24 Comunque vedetelo a schermo Io dico i 24 ma voi vedetelo a schermo Io perché lo ricordo a memoria Comunque sono questi neri E per finire andremo a mettere un cappello Uno dei cappelli dritti E una volta fatto tutto questo ragazzi Ci mancherà l'ultimo passaggio Prima di salvare il completo Dovremo mettere un giubbotto antiproiettile Ok? Quello di colore verde Il giubbotto pesante ragazzi Dobbiamo mettere semplicemente questo giubbottino qui Dopodiché potremo salvare il completo Mi raccomando ricordate di mettere questo giubbotto Perché altrimenti non vi esce fuori il completo Quindi abbiamo fatto il primo E lo chiamiamo blu Azzurro, blu come cazzo volete voi Andiamo per il secondo completo ragazzi Che sarebbe il marrone Il marrone Voi direte questo non c'è un cazzo di marrone Lo so ragazzi Però poi quando passerà dall'altra parte Sarà marrone Quindi a questo punto andiamo su leggings nuovamente E selezioniamo questi leggings qui ragazzi Una volta selezionati questi leggings Andiamo in parti superiori E andiamo a selezionare il bustino Lo stesso che abbiamo selezionato prima Quello turchese, quello celeste che state vedendo Dopodiché andiamo in giacche sportive ragazzi E dobbiamo selezionare questa giacca sportiva Aspettate che ho sbagliato io Andate a selezionare questa giacca sportiva ragazzi Questa qui Quindi una volta che avete il tutto Passiamo ai guanti Allora ragazzi io qui ho fatto una prova Infatti i guanti non passano Escono fuori tutti i celesti Quindi potete anche evitare il passaggio dei guanti I guanti li potrete aggiungere in un secondo tempo A vostro gusto come ho fatto io Quindi i guanti potete anche saltarli Perché tanto vi sbucheranno sempre i celesti fuori Quindi a questo punto andiamo in scarpe Qui se mettete una sneakers marrone Va bene vi esce fuori marrone Io volevo provare a mettere una scarpa da corsa marrone Però quando ho trasferito il completo Non mi è uscito quello che pensavo io Ma è uscito la classica scarpa che uscirà nel primo completo A questo punto andiamo in cappelli dritti Comunque mettetele quelle di scarpe Andiamo in cappelli dritti E mettete il cappello che avete appena visto Facciamo lo stesso procedimento con il giubbotto antiproiettile ragazzi Quindi andremo a mettere questo giubbottino antiproiettile Sempre verde ragazzi Il giubbotto pesante E andremo a salvare il completo A questo punto ragazzi passiamo al terzo completo Che secondo me è il più figo di tutti Che ci sta veramente un botto A me piace veramente tanto Voi direte ma come cazzo parli stasera Maxi? E vabbè Però è figo davvero come completo Secondo me è uno dei completi più carini di questi tre Anche il blu ragazzi non è male Però quello verde è figo Quindi a questo punto andiamo in leggings E mettiamo questi qui con queste toppe rosse Insomma questi verdi con le toppe rosse Chiamiamogli così Andiamo in bustini Mettiamo il numero 17 che è bianco Voi direte ma il numero lo vedi? No ma lo ricordo a memoria raga E poi andiamo in giacche sportive sempre Quindi andremo a mettere questa con la scritta Goofy qualcosa del genere Che è esattamente sotto a quella che abbiamo messo prima Quindi non dovete fare tanti sforzi Qui i guanti come ho già detto Saltateli potrete aggiungerli in seguito ragazzi Io li ho aggiunti perché stavo facendo delle prove Quando ho registrato E quindi automaticamente ho aggiunto questi guanti Andiamo in scarpe ragazzi E dobbiamo mettere scarpe sportive Andremo a mettere scarpe sportive E andremo a selezionare quelle bianche Tutte bianche ragazzi Quindi una volta selezionate le scarpe Cappelli dritti E andremo a selezionare questo cappello Fatto tutto questo ragazzi L'unica cosa che dovremo fare Come negli altri completi E mettere il giubbotto pesante Quello verde Mi raccomando Mettetelo perché se no Altrimenti il completo non vi esce ragazzi Quindi una volta fatto tutto Salviamo il completo E avremo i nostri tre completi Ragazzi E questo lo chiamiamo verde A questo punto ragazzi Vedete che abbiamo Tutte e tre i completi L'unica cosa che dobbiamo fare E andare Start Online Creatore Quando andremo nel creatore Andremo in crea gara ragazzi Creeremo una gara terrestre Non è importante Quanto lunga O cosa Perché tanto comunque Non la faremo questa gara E mettete tutti i dati Così alla cazzo Come li sto mettendo io Né più né meno E una volta che avete fatto Il tutto Che avete fatto le foto Adesso andiamo Andiamo a vedere Non ve lo mando in velocità ragazzi Perché alcuni di voi Mi hanno riportato Ah ma non funziona Non funziona Ragazzi Funziona benissimo Sia come lo faccio io Sia come lo fanno gli altri Che tante altre persone Giocano la gara Ma non è necessario Giocare la gara Non serve a un cazzo Giocare la gara ragazzi Serve solo a farvi perdere E allungare ulteriormente Il glitch Io qui vado a piazzare Il primo checkpoint Quindi mi raccomando I settaggi tutti Come li ho fatti io Spero che si veda bene Il video Penso che si veda bene E mettete il checkpoint E a distanza Di un chilometro Un chilometro e qualcosa Io qui non l'avevo proprio messo a un chilometro Infatti l'ho messo più avanti Il checkpoint E l'importante è che vi dia la prova Ragazzi Che vi faccia provare Ma come ho già detto Non è necessario che la provate Poi se la volete provare Per stare più sicuri Fate voi Ma non serve Quindi a questo punto Andate Vi dirà di provare Quando vi dirà il go Fate start online Andate in cambia personaggio E andrete a selezionare Il personaggio Ragazzi Una volta qui In seleziona personaggio Dovrete cancellare Il secondo personaggio Ragazzi Quindi fate bene attenzione Se avete auto Nel secondo personaggio Qui mostro la data E l'ora In cui stavo girando il glitch Ragazzi Se avete auto Nel secondo personaggio Non fate questo glitch Se avete Completi Che non volete perdere Nel primo personaggio Non fate questo glitch Ragazzi Poi non mi date la colpa Perché io ve lo sto dicendo Quindi a questo punto Dovete cancellare Il secondo personaggio Dovrete ovviamente Scrivere elimina Non basterà Incollarlo Perché non ve lo darà valido Quindi dovrete scrivere Elimina E una volta Eliminato il personaggio Aspetterete Il caricamento Ci metterà Un pochino Non lo so Il tempo che ci mette a me Ragazzi Né più né meno E una volta Che avrete La possibilità Di premere cerchio Dovete premere cerchio Automaticamente Il gioco Vi butterà nella storia Una volta che sarete Nella storia Farete start Online E andrete In una sessione Solo a inviti Solo a inviti Perché almeno Non vi romperà Il cazzo nessuno Allora Quando sarete In una sessione Se avete Sbirro corrotto L'avviate Oppure potete avviare VaffanCamion Se non ce l'avete Fatela avviare Da un vostro amico Io in questo caso Non ce l'avevo Ragazzi Quindi la sto facendo Avviare Da chi mi sta aiutando Dalla mia ragazza E E quindi sto facendo Avviare la missione Anche perché VaffanCamion Un po' Un bordello Poi quando respawnate Spawnate fuori mano E quindi E' un po' Una rottura Dei coglioni Ragazzi Quindi A questo punto Mi faccio Invitare Spero ragazzi Che il video Non laghi Come sto guardando Che sta laggando Cantasia Perché è qualcosa Di allucinante Allora Quando siete Nella missione Il vostro amico O voi Che la state ostando Dovete mettere Completi Posseduti Ok Non dovete mettere Né classici E non dovete mettere A tema Posseduti Ragazzi Quindi mi raccomando Posseduti Una volta che Diciamo La missione Sarà avviata Il passaggio E' semplice Ragazzi Ovviamente Dovrete avere Questo completo Dovrete entrare Nella missione Con quel completo Andare Una volta a destra Selezionare Il completo Azzurro Marrone O verde E Fermarvi lì E cliccare Ok Una volta che sarete Nella missione Ragazzi L'unica cosa Che dovete fare E mettere Un paio di occhiali Per salvare Il completo Quindi adesso Andiamo a vedere Ora che siamo Nella missione Dobbiamo andare In stile Dobbiamo andare in stile Ovviamente Non andate su testa Che leverete il cappello Andate in occhiali Non mettete respiratore Perché sennò Toglierete il cappello Andate su occhiali E cambiate semplicemente Gli occhiali Una volta cambiati Gli occhiali Ragazzi Tirate fuori Il telefonino Andate su Esci dalla missione Premete quadrato E uscite dalla missione Dopodiché L'unica cosa Che dovrete fare E andare in un negozio Di abbigliamento E salvare il completo Esattamente Dove l'avevate nominato Anche perché Prima ragazzi Questi completi Non ve li farà vedere Ok Dovete fare per forza Questo passaggio Perché altrimenti Non li potrete vedere Questi passaggi Questi completi Ripetete Il passaggio Anche per gli altri Due completi Ragazzi Io qui Ho tagliato La parte in cui Ripetevo il passaggio Perché erano La bellezza Di 30 minuti Di video Sinceramente Non credo Che avevate voglia Di vedere 30 minuti Di video E Quindi A questo punto Ho tagliato Il video E vi lascio Semplicemente I completi Già finiti Ragazzi Allora Questi qui Sono i completi Già terminati Io ragazzi Qui ci ho messo Dei guanti A mio gusto Quindi i guanti Li potete modificare Non so che altro Potete modificare Perché io non ho Modificato altre parti Però i guanti Li potete modificare E di quello Ne sono certo Ragazzi Quindi Il completo azzurro Lo avete già visto Questo è il completo Marrone Ragazzi Però comunque Adesso Li andremo A rivedere E spero Che vi piacciano Ragazzi Questi completi Anche perché A me sono piaciuti Molto Questo era Il completo azzurro Questo è il marrone E questo è il verde Che secondo me È quello più bello Di tutti Detto questo Ragazzi Rinnovo Spero che vi piacciano Un saluto a tutti Al prossimo video No mercy No mercy